Salve a tutti e benvenuti su AllpizTV. All forio tanto prima o poi viene pure tu su AllpizTV. Andiamo con un'altra piccola canzoncina dal titolo Assolate. Vado, uno, due, tre. Nel mese di gennaio continuano le giornate fredde e assolate che consigliano a chi non vuol capire di sparire chiudendosi dentro, buttando via la chiave a quattro mandate, a quattro mandate. Di danni ne sono stati fatti, tanti, abbastanza nel paese ma questi non mollano, pensano solo ad incassare ogni fine mese sempre a nostre spese sempre a nostre spese certo non gli manca la faccia tosta di uscire ancora di casa e continuare a sfilare e continuare a sfilare La gente è incredula, sgomenta, ma possibile che debba ogni giorno dover incoiare tutto questo squallido scenario sopportare tutto questo squallido scenario sopportare Nel mese di gennaio continuano le giornate fredde e assolate che consigliano a chi non vuol capire di sparire chiudendosi dentro, buttando via la chiave a quattro mandate, a quattro mandate di danni ne sono stati fatti tanti, abbastanza nel paese ma questi non mollano, pensano solo ad incassare ogni fine mese sempre a nostre spese sempre a nostre spese certo non gli manca la faccia tosta di uscire ancora di casa e continuare a sfilare e continuare a sfilare la gente è incredula, sgomenta ma possibile che debba ogni giorno dover ingoiare tutto questo squallido scenario sopportare tutto questo squallido scenario sopportare eh sì, sopportate, così imparate OlipizTV, Olforio, tanto prima o poi viene pure tu, puoi ricevere, ma quanto mai cavalloro gigante per tutti quanti con questo vi saluto e vi rimando alla prossima come sempre OlipizTV, Olforio, tanto prima o poi viene pure tu, arrivederci